Raccolgo puntualmente le segnalazioni dei cittadini, certo non ho il dono dell'ubiquità e non posso essere presente ovunque ovviamente, mi trovo in via Caduti di Nassiria per capirci la stradina alle spalle dei Giardini Virgilio, siamo qui dalle parti di Corso Italia, via Lago di Trasibeno, sto cercando più o meno di inquadrare la zona. Mi hanno segnalato una situazione davvero incredibile, guardate cosa c'è, un marciapiede che poi praticamente è asfaltato, che sta collassando, vedete è completamente vuoto, si vede proprio il vuoto da sotto e in corrispondenza un tombino. Quindi in buona sostanza qui sotto i miei piedi dove sto indicando con la scarpa c'è un vuoto, il che significa che da un momento all'altro questo pezzetto di marciapiede asfaltato, chiamiamolo marciapiede, potrebbe collassare e qualche malcapitato potrebbe precipitare. Peraltro è già capitato che alcune persone, soprattutto anziani, mi denunciavano quanto accaduto ieri, una signora poverina è inciampata perché è molto facile, ma oltre a cadere e a inciampare, cheppure è una cosa molto ma molto grave, qui c'è proprio il rischio della stabilità dell'area perché a lungo andare una superficie che ha il vuoto da sotto prima o poi collasserà e poi bisognerà vedere chi si troverà a passare nel momento, speriamo nessuno, nel momento in cui la superficie, dicevo, l'area collassa. Ecco, vedete, io ho segnalato questa situazione, era già stata segnalata più volte, ma non c'è stato nessun tipo di intervento, vedete, non sono piccole cose, perché poi la gente quando cade, giustamente, chiede i danni al comune e noi come amministrazione, e l'amministrazione comunale si vede costretta, giustamente, a dover risarcire il danno, ma oltretutto qui non vorremmo veramente che si verificasse una tragedia. E allora, caro assessore ai lavori pubblici, ve lo sto dicendo, caro assessore al patrimonio, ve lo sto dicendo, questa è area del comune di Tarno, volete darvi una mossa o dobbiamo aspettare davvero qualche tragedia? Grazie.